Una non aggiornata della Samsung Galaxy Volley Cup da non perdere. In questo turno di Serie 1 femminile infatti sono programmati diversi scontri che potrebbero modificare gli attuali equilibri della classifica. Si parte subito con il match salvezza tra Fomo Pedretti Bergamo e Lardini Filottrano, rispettivamente in ultima e penultima posizione. In palio tre punti importanti per prendere una boccata d'ossigeno e soprattutto allontanarsi dalla zona rossa della retrocessione. Domenica alle 17 poi tutte le altre sfide della giornata. Se la capolista Igor Gorgonzola Novara farà visita al Saugella Team Monza nella Candi Arena dove ritroverà l'ex allenatore Luciano Pedullà, tutti gli occhi sono puntati sulla partita del Palasport di Scandicci dove la Savino del Bene ospiterà l'Imoco Volley Conegliano. Un match ad alta tensione tra la terza e la seconda forza del campionato di Serie A1. Le due squadre che sin adorano sorpreso di più in quest'avvio di stagione sono la UNET IWORK Busto Arsizia e la MAI Cicero Pesaro e il loro destino si incrocerà domenica al Palayamamai. La Liugion ormeccanica Modena sta vivendo un momento di grande forma con tre successi consecutivi di cui l'ultimo contro Conegliano. Al Palapanini le gialloblu attenderanno il Bisonte Firenze, squadra ostica che negli ultimi tre turni ha affrontato tre tie-break vincendo solo quello contro la Pomica Salmaggiore. Chiuderanno il quadro di questo turno della Samsung Galaxy Volley Cup proprio le rosa di coach Lucchi che al Palaradi ospiteranno la sub-volley Legnano. Diciamo che piano piano stiamo recuperando quasi tutte le atlete a parte una giocatrice che ha ancora qualche problematica. Mi aspetto una gara combattuta con due avversarie alla ricerca di punti. La mia speranza è quella di rompere subito il ghiaccio per spezzare questa paura emotiva e andare sulla parte tattica. Il match tra Fova Pedretti Bergamo e Lardini Filottrano andrà in onda indifferita su RaiSport più HD, canali 57-58 del digitale terrestre sabato a partire dalle 21.50. Tutte le altre sfide saranno trasmesse in diretta streaming da LVF TV, la web tv ufficiale della Lega Pallavolo seria femminile. Se non sei ancora abbonato, prendi parte alla LVF TV Revolution, registrati subito su www.lvftv.com.